Pettinari, qual è il giudizio politico del Movimento 5 Stelle su questa inchiesta che ha toccato anche il Presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso? Io presenterò un'interrogazione urgente al Consiglio regionale per chiedere al Presidente di riferire sulle vicende che abbiamo letto in questi giorni sui giornali. Noi dobbiamo capire, dobbiamo capire, approfondire, ci deve spiegare se è vero, non è vero, cosa è vero, cosa non è vero, perché i consiglieri regionali e a maggior ragione noi questa opposizione deve essere messa nelle condizioni di conoscere per poter eventualmente esercitare pienamente le funzioni di sindacato ispettivo, di controllo sugli atti assunti. Questo è un dovere istituzionale, noi lo eserciteremo fino in fondo. Voi siete anche garantisti però. Noi riteniamo che le indagini vanno approfondite, sicuramente ringrazio la magistratura incluirente e le forze dell'ordine che ancora una volta dimostrano di fare pienamente, di svolgere pienamente le proprie funzioni perché la rilettura degli atti assunti dalle pubbliche amministrazioni da parte dell'autorità giudiziaria è sempre una garanzia di legalità per la collettività.